Lo sapevi che questa è la via di Jack lo Squartatore di Milano? Qui, in via Bagnera, che è la via più stretta di Milano, il primo serial killer della storia italiana portava le sue vittime. Pensate che si trova in pieno centro, a due passi dal Duomo. E tu, avresti il coraggio di attraversarla?